Sottotitoli. Doveva essere stasera una riapertura e una festa della nostra amata vita per vedere di questo cantiere, per chi ci ha lavorato, per chi ha avuto ansie e tensioni e che ci ha messo quello che ha potuto mettere. Ma da pochi minuti abbiamo avuto la notizia di una notizia dolorosa, tragica. Qualunque sia la ragione per la quale un ragazzo, un consigliere comunale, ma un ragazzo di questa città decide di togliersi la vita, è una ragione che ci fa riflettere, che merita rispetto e che merita anche un momento da vivere diversamente da come l'avamo immaginato nel corso di questa riapertura della vita. Non vedrete il tradizionale taglio del nastro, salta da parte del cerimoniale, non spiegheremo i lavori di questo appalto rispetto agli altri che sono pure all'interno, ci sono dei pannelli, vedrete, ci vedete, vi renderete conto, vi leggeranno, non ha importanza oggi. apriamo i cancelli perché è giusto che la città riabbia la sua villa a lungo, chiusa. Lo faremo con questi sentimenti, con questa sobrietà. Annunciamo anche che si rinuncia alla parte del cerimoniale che avevamo rivisto e pertanto io che intosso vicino al Presidente del Consiglio, vicino alla sua eccellenza, la fascia tricolore perché li abbiamo a nome della città, la villa, toglierò la fascia subito dopo le parole del Vescovo di preghiera, di riflessione e di benedizione, riapriremo i cancelli e, corta la fascia, ci incammineremo ciascuno nella nostra villa perché possiamo renderla nuovamente nostra. Con l'occasione chiaramente rivolgiamo l'anziero a Camillo Patti e alla sua famiglia in questo momento di dolore e do la parola alla sua eccellenza Pescovo. Signor Sindaco, a nome di tutta la città, mi ha invitato in questo momento che è di tutta la città perché la villa, al di là del numero di noi presenti ovviamente, è amata e da quando sono arrivato qui ho sempre sentito parlare con orgoglio di questo luogo da parte di tutti gli accesi e io che sono diventato accese sono orgoglioso anch'io di poter entrare e camminare con voi nella villa che è un fiore all'occhiello della nostra città, per storia e quant'altro. E quindi volentieri porto la mia parola di benedizione di preghiera insieme a voi e a tutti quelli che credono nella nostra città perché possa essere un segno del nostro cammino e della nostra risalita, salita, essendo tutti consapevoli delle difficoltà che stiamo vivendo. Naturalmente in questo momento di dolore nella città porgo le condonianze al Presidente del Consiglio, al Consiglio Comunale perché il signor Baldi faceva parte e dunque eletto democraticamente era un rappresentante delle istituzioni, ma nella mia veste elevo la mia preghiera a Dio per la sua anima e per la consolazione della sua fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.